Don Bruno Lancuba, direttore dell'Istituto Superiore di Scienze e Religiose San Matteo di Salerno, è intervenuto all'incontro ecumenico nella giornata del dialogo tra ebrei e cristiani proprio sul fondamento biblico di questo dialogo. La Bibbia, nella prima parte, quella che noi chiamiamo Antico Testamento, ci accomuna sostanzialmente con gli ebrei, lì possiamo trovare il fondamento comune sia riguardo a chi è Dio sia riguardo a chi è l'uomo. Io mi sono soffermato in maniera particolare sull'antropologia, cioè sulla visione dell'uomo a livello biblico, l'uomo nella sua grandezza, l'uomo nella sua miseria. Questa giornata apre anche la settimana del dialogo tra i cristiani, quindi l'auspicio di Gesù che tutti i cristiani siano una cosa sola. In questi ultimi anni si lavora molto per trovare punti di incontro, di intesa, cammini comuni che possano portare la carità cristiana al di là delle differenze che pur esistono tra le diverse confessioni. In realtà le differenze, se non diventano divisioni, possono anche in qualche modo arricchirci. Chiaramente noi dobbiamo ricercare i percorsi che ci portano all'unità, quell'unità per cui Gesù Cristo ha pregato. Padre fa che sia unite affinché il mondo creda. Per cui l'unità tra le diverse confessioni cristiane diventa anche motivo di credibilità dell'annuncio cristiano. Diventa di per sé testimonianza che valorizza quello che è il messaggio cristiano. E allora senza nessun appiattimento, ma con atteggiamento costruttivo, noi dobbiamo andare gli uni incontro agli altri per cercare un'unità che, come diceva Dondonino Bello, diventa una sorta di festa delle differenze. diventa una sorta di sintonia di quelle che sono le differenze, un banchetto delle differenze.